E' giunto il momento di parlare un po' dell'elfante nella stanza Il manico, il grilletto prepotente che ha questa serie di canne Me l'hanno portata a vedere e quando me l'hanno portata a vedere dall'azienda Dicevo ma non me la fate neanche vedere Alla fine me l'hanno fatta vedere, me l'hanno messa in mano un po' per Controvoglia, diciamo così E devo dirvi la verità Dal vivo questa roba qua fa tutto un altro effetto Ovviamente canne di questo tipo sono fatte anche per mulinelli di un certo spessore Quando gli mettiamo il portamulinello diventa tutto più comodo Perché noi di fatto impugniamo il mulinello in questa maniera qua Abbiamo una presa molto più salda Abbiamo il controllo della canna Sembra veramente di avere la canna un'estensione del nostro braccio Abbiamo un'estensione del nostro braccio